Sono davanti all'arco di Costantino a Roma, un antico arco trionfale vicino al Colosseo, eretto per commemorare la vittoria dell'imperatore Costantino contro Massenzio nella battaglia di Ponte Emilio, nel 312 d.C., dedicato dal Senato in occasione dei dieci anni di regno dell'imperatore, collocato tra il Palatino e il Cielio sull'antico percorso dei trionfi. La sua struttura è principalmente il marmo, costituita anche da elementi di riempiego, materiale di recupero, se quello stile degli archi trionfali romani, con una combinazione di stili architettonici, come nell'arte romana tardo-antica, composto da tre fornici, come quello di Settimio Severo, con quello centrale più grande rispetto agli altri due. Le numerose sculture che lo decorano rappresentano scene di battaglia, ricarica di cavallerie e soldati che mostrano le teste mozzate dei barbari in trionfo, oltre ai ritratti dell'imperatore Costantino. Colonne corinze, freci, cornici contribuiscono alla sua mestosità. Sono presenti iscrizioni che commemorano la vittoria di Costantino e l'erezione dell'arco in suo onore.